Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo Al manacco di bellezza, 21 settembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, non potevamo che partire da Wagner per introdurre la figura di cui parliamo oggi e abbiamo scelto il monologo di Wotan, la Valchiria, perché è una delle scene più filosofiche dell'intero ciclo del Ring, l'anello del Nibelungo e la Valchiria tra le opere di Wagner è quella con i più espliciti riferimenti al pensiero del grande padre spirituale e cioè il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer che si spegne dove? A Francoforte sul meno, meno, non sul più e neanche sul Reno e neanche sul Reno il 21 settembre del 1860. Spiace partire dal giorno della dipartita, però è passato un po' di tempo, è passato un po' di tempo, di una grandissima personalità, fortunato anche nel nome. Schopenhauer io da bambino me lo ricordo. Potrebbe essere una marca di elettrodomestici, accendi lo Schopenhauer. Hai fatto il frullato con lo Schopenhauer, va bene. Allora nel caso di Schopenhauer ci offre… Anche un calciatore, Beckenbauer, Schopenhauer. Beckenbauer passa a Schopenhauer, va bene. E stiamo parlando, nel momento della morte, della sua riscossa, cioè lui è nel momento di massima affermazione, a chiosa di una vita segnata da insuccessi, emarginazioni… Sì, come tutti i grandi pionieri, diciamo, non lo capivano all'inizio. Cioè i filosofi non lo invitavano. No, esatto, perché nel 1851, cioè quando lui ha 63 anni, Schopenhauer raggiunge l'apice del prestigio con la pubblicazione del brillante Parerga e Paralippomena. Ve ne parlo adesso io che l'ho letto… E sei un tecnico. Un tecnico, sì. Cioè sono oltre 30 anni dalla pubblicazione del suo testo capitale, Il mondo come volontà e rappresentazione che… Sì, che è il suo capolavoro, che era uscito nel 1819 però in un tempo in cui ancora non l'avrebbero capito, non lo capirono. E invece in quest'opera tarda lui riprende i concetti enunciati nel mondo, ma lo fa con una prosa graffiante più facile. È popolaresco quasi, quasi diciamo. E con alcuni saggi di straordinaria immediatezza e dopo l'uscita di questo volume l'Università di Lipsia bandisce un concorso di studi proprio dedicati alla filosofia di Schopenhauer. Gli arriveranno riconoscimenti dall'Inghilterra, un paese tra l'altro… Perché lui… Sempre amato. Esatto, quindi mai mollare. Mai mollare. Io ti ho sempre amato. Mai mulà. E so che alla fine tu mi ripagherai col tuo amore e con la tua amicizia. Con la stessa moneta. Ecco, no, allora se la stessa moneta con cui mi hai ripagato fino adesso… No, con cui tu mai… È una triste storia. È uno smusico. Senti, lui ha l'occasione di dare una seconda chance quindi al suo mondo come volontà dopo che le copie della prima edizione erano state mandate al macero. Sì, era stato un fiasco editoriale da Guinness. Da Guinness. 1854, questa seconda edizione è arricchita da un'introduzione e da un secondo volume. In fondo è come l'almanaco, quando noi saremo morti. Andrà esaurito finalmente. Perché non ci sarà più quel refrain tutti i giorni. Poi non c'è l'imbarazzo degli autori viventi. Va bene, allora io potrei anche dire che se incomincio a uccidere… Fai arricchieri. No, uccido te. Ah, ok. E poi vado in giro… E crei il caso editoriale. Certo. Allora, va esaurita questa nuova edizione in pochi anni e ne viene presto ristampata una terza. E intanto la schiera dei seguaci aumenta e finisce per stemperare questa vulgata sulla sua misantropia. Cioè lui inizia ad ammettere al proprio cospetto dei discepoli, anche delle donne. Sì, che non voleva vedere fino a quel momento. Beh, ha sempre avuto un rapporto piuttosto difficile col gente in sesso. Schopenhauer. Wagner gli fa dono del libretto dell'Anello del Nibelungo. Omaggio che il filosofo gradisce, se non altro per la stima, verso il Wagner poeta, che era molto maggiore rispetto a quella per il Wagner compositore. C'è da dire che i gusti di Schopenhauer erano orientati di più verso Bellini, che però piaceva molto anche a Wagner, Beethoven, che piaceva molto anche a Wagner, e Mozart, che piaceva molto anche a Wagner. Non aveva scelto male. Non aveva scelto male. Adesso andiamo avanti e siamo sempre nel mondo dell'Anello del Nibelungo. Non aveva scelto male. Alla prossima Grazie a tutti. 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 Schopenhauer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Schopenhauer. Grazie a tutti. 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 noto, della Germania unificata che si allontana e una società borghese che sente di aver perso in qualche modo la sua partita con la storia danno impulso ad una generazione che è segnata dalla disillusione e lui è perfetto. Quindi l'influsso del pensiero di Schopenhauer si estende a quella generazione romantica ed è un influsso che perdurerà fino a continuare nel pieno novecento perché grandi grandi filosofi come Friedrich Nietzsche che si considerava suo discepolo riprenderanno alcune riflessioni e ci sono altre figure distanti anni luce e anche tra loro come Marx, Fittgenstein, Heidegger e Choran. E poi il campo letterario perché lui ha avuto un influsso straordinario a tutte le latitudini e longitudini. Tolstoi, Kafka, Svevo, Thomas Mann, Thomas Bernard. E' curiosa l'affinità quasi fraterna con l'universo poetico dell'autore preferito dell'infanzia di Leonardo perché l'ho detto lui leggeva solo Zibaldone, aveva tre anni. Mi chiamavano Leonardo. Stiamo parlando di Leopardi, Leonardo. Non ho la gobba però. No, anche se non è dato sapere se avesse mai conosciuto i testi di Schopenhauer. Mentre Schopenhauer aveva letto e come le opere di Leopardi. Le operette morali, i pensieri. E cosa diceva di Leopardi? Diceva più giovane ed infelice fratello che perdutosi per uno strano destino e sentendo in sé lo spirito del suo possente fratello più anziano, si esprime a modo suo tendente a raggiungere la grandezza dell'originale. Parlava bene di sé. Questo è in italiano, lui l'aveva detto in tedesco, però com'era in tedesco? Schlafen, schlafen, disarmant un ta reste. Verboten, verboten. Leopardi. Leopardi. Beh, devo dire, che giganti. Poi abbiamo detto Nietzsche e ancora mi viene in mente Wagner. Però le cose tra Nietzsche e Wagner poi finiranno per guastarsi. Sai cosa faceva un bestialire Wagner? Racconta. Che Nietzsche diceva che la Carmen era bellissima. L'aveva sentita, credo solo in italiano. A Nizza, se non sbaglio. Va bene, è un'altra storia, un ultimo contributo. Accadeva così che il duro impatto con la realtà impenetrabile, all'insegna della volontà e del desiderio di salvezza da un destino ineluttabile rimettesse improvvisamente in moto il potenziale della filosofia di Schopenhauer con sempre crescente vigore. Lei è Peter Venkman? Sì, io sono il dottor Venkman. Esattamente dottore in cosa, signor Venkman? Beh, io sono laureato in parapsicologia e psicologia. Ah sì? E adesso acchiappa fantasmi. Sì, diciamo così. E quanti fantasmi ha acchiappato, signor Venkman? Non sono autorizzato a dirlo. E dove li mette questi fantasmi una volta che li ha presi? Nel nostro dispositivo di stoccaggio. E questo dispositivo di stoccaggio è situato in questo edificio? Sì. Essendo nato a Evaston, Illinois, dove c'è un appunto, i nazisti dell'Illinois, i nazisti dell'Illinois. Il 21 settembre 1950, oggi Bill Murray guarda l'almanacco e compie con noi 74 anni. Solo che telefona a Piero e mai a me. No, perché dice che Leonardo tanto non gli risponde. Su Bill Murray ci sono un'infinità di storie, è uno forse degli attori più amati e rappresentativi degli ultimi 50 anni, ma è anche un balengo. È un balengo. Non ha un agente, non ha un addetto stampa, non ha un assistente, ha solo un numero verde e una segreteria telefonica che ascolta quando gli gira. Un po' come faceva Alberto Arbasino, risponde la segreteria telefonica di Alberto Arbasino, questo fino alla fine dei suoi giorni. Mi piace molto giocare a golf e guardare il baseball. Appunto è difficile mettersi in contatto con lui per proporgli un progetto e Piero gliene ha proposti diversi. Ha sempre detto di no chiaramente perché ha capito che razza di personaggio io sia. Bisogna lasciargli un messaggio in segreteria sperando in una richiamata di Bill. Senti, per questo ricordiamolo, lui ha perso una quantità di occasioni straordinarie. Non si può stare dietro a tutti. Volevano lui per chi è incastrato Roger Rabbit, volevano lui per Forrest Gump. Pensa. Però è anche vero che di film importanti ne ha fatti molti. Ricordiamolo, lui promuove i film che fa ma non rilascia interviste a quattro occhi. Fa delle apparizioni a sorpresa in eventi casuali, matrimoni. Gli piace fermare la gente per strada? Sì, così. Lascia un sacco di storie molto stravaganti dietro di sé. E su di lui negli ultimi anni sono venuti fuori anche episodi abbastanza incresciosi. Si parla di problemi sul set, aggressioni verbali, scatti di ira, comportamenti si direbbe inappropriati. E lui si è difeso dicendo, ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente, ma non è stata vista così. Ha raccontato per esempio un giorno in cui da giovane a teatro aveva recitato molto molto male e voleva cambiare il suo mestiere. La sua vita è stata salvata da Il Canto della Lodola, un olio su tela dell'artista naturalista francese Jules Breton, esposto a Chicago, che ritrae una contadina all'alba in un campo. Lui dice che di fronte al quadro pensò, se il sole sorge ogni mattina per lei, sorgerà di nuovo anche per me. Quindi non ha citato Rossella O'Hara? No, un altro giorno non l'ha detto. E' quinto di nove fratelli e sorelle, Bill Murray cresce in un soborgo di Chicago e muove i primi passi solito, a Broadway, alla radio, in una compagnia in cui recita anche una sua vecchia conoscenza, John Belushi, il protagonista, abbiamo ricordato prima, di Blues Brothers. Nel 1976 sostituisce Chevy Chase nel cast della seconda edizione di Saturday Night Live, lo show NBC dal quale sono venuti fuori tanti attori comici americani. Incredibile. Dana Croyd, Eddie Murphy e lo stesso Belushi. Al cinema lui debutta da protagonista, siamo nel 1979, il film è Polpette, che è il primo film di Ivan Reitman, che è quello che ha firmato il primo che abbiamo visto, cioè Ghostbusters, che era stato tra l'altro scritto da Harold Ramis, cioè lo stesso autore di Animal House. Reitman e Ramis, che è un genio, sono due figure centrali per la carriera e per la fama di Murray. Ramis è il regista di Cadizzeck, è un cult movie intorno al mondo del golf, di comicità è stato definito tutt'altro che raffinata, ma spesso irresistibile nella sua innocua anarchia. E appunto nel 1984 il botto Harold Ramis e Dana Croyd, che è un grande sceneggiatore, oltre che attore, scrivono e Reitman dirige la commedia horror Ghostbusters, a novembre saranno i 40 anni, Ivan Reitman, slovacco-americano, scomparso due anni fa, un film che avrà dei seguiti, ricordiamo anche gli altri attori, Sigourney Weaver, Rick Moranis, grandissimo, e lui, Bill Murray, che è il vero protagonista del film, perché è il leader di questo gruppo, in realtà è un rimpiazzo, viene scelto dopo la scomparsa di John Belushi. C'era anche il cartone animato, molto bello, io avevo anche i giocattoli della Ghostbusters. Ah, quindi hai giocato tu? Ho giocato, sì. Per quanto tempo? Due settimane. Ebbe un incasso veramente, record, no? Tra l'altro è stato un anno d'oro per il cinema americano, perché è lo stesso di Indiana Jones, secondo episodio, e di Beverly Hills, dove c'è un altro dei ragazzi usciti da quella nidiata, Eddie Murphy. Senti, c'è il secondo, che è meno bello, però un ottimo incasso, e poi ricomincio da capo la storia di uno svogliato meteorologo televisivo che viene mandato in Pennsylvania a raccontare il giorno della marmotta. Groundhog Day. Uno spettacolo avvidente. Centinaia di persone con le chiappe congelate aspettando di venerare un topo. Tutta propaganda. Un tempo il giorno della marmotta significava qualcosa, tiravano fuori il ratto e se lo mangiavano. Razza di ipocriti. Tutti quanti. Cosa accade? Il 2 febbraio di ogni anno un paesino attende il risveglio della marmotta per studiarne le mosse in vista della primavera. Il giorno dopo e per i giorni seguenti, lui si risveglia sempre il 2 febbraio, come se niente fosse già accaduto. È un nuovo modo di dire che da quel film in poi è entrato a far parte della lingua inglese. Anche Calenda l'altro giorno ha detto «Au, ma siamo sempre al giorno della marmotta». Sul set di quel film purtroppo Remis e Murray litigarono furiosamente. Remis, ricordiamolo, poi si è spento nel 2014 a 70 anni, anche se prima che morisse loro due si riconciliarono e Bill Murray gli rese un grandissimo omaggio alla notte degli Oscar. Bill Murray è il coinquilino di Dustin Hoffman in Tootsie. Meraviglioso. È l'unico che sa la verità, che sa che Dustin Hoffman è diventato donna. Sì, e interpreta uno dei compari di Johnny Depp in Edwood. Poi da Rushmore in avanti, 1998, diventa l'attore feticio di Wes Anderson, per cui recita in sette film e ha anche doppiato due progetti a pupazzi animati. Ricordiamo che nei Tenenbaum lui fa il marito neurologo di Ginnett Paltrow. Ma il film epocale, naturalmente, che tutti ricordiamo, è quello del 2003 con Sofia Coppola. Lost in Translation. Siamo a Tokyo, lui e la giovane Scarlett Johansson, entrambi in crisi di identità. Lui perché sta invecchiando e l'altra perché sta crescendo. È una interpretazione straordinaria, quella di Bill Murray. E il Mereghetti dice, Murray è una maschera straordinaria che assume stoicamente il peso degli anni, della stupidità umana e del fallimento personale e se ne libera con leggerezza appena stralunata. Bellissimo. Senti, gli è arrivata l'unica candidatura all'Oscar che però, ricordiamolo, è stato vinto in quell'anno da Sean Penn per il Mystic River. Lo salutiamo, salutiamo anche Sofia Coppola che guarda. Anche Scarlett Johansson. Tutti guardano l'almanacco, di solito insieme. Sì, c'è un divano. E noi siamo molto contenti. Ogni tanto chiamano Piero dicendo, però Leonardo è più bravo. No, è più bello dicono. Ah, è più bello. Dicono che sei molto più bello. Vorrei un po' lamentarmi perché la gallina è molto spenta, quindi c'è qualcosa che non va. Noi facciamo buon viso a cattivo gioco, però quando il gioco si fa duro... I duri incominciano a giocare. E qui vabbè. Vabbè, senti Leonardo, non ci resta che il timbota. Sì. Oggi è sabet, 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 sabet. Tor via, prender via. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire togliere, asportare. È vero, conferma. Lui è modenese, quindi conferma, asportare. Sì, aspartame. Aspartame. Sì. Io ho asportato un rene. Un rene è... Ah, qualcun altro. No, no, il mio. L'ho venduto. Te lo sei asportato. L'ho venduto, ma non ho mandato molto. Eh, lo so. Eh, è tristissimo. Non sono più i reni di una volta. Non ci sono più poi i miei reni, pensa che roba. Le ha viste di cose. È una lastra di agdesia. Va bene. Ci è passato anche Messner. Sì. E anche Loietti. Senti, Leonardo. Oggi sono cent'anni, l'abbiamo ricordato più volte, ma è giusto riprendere questo anniversario, cent'anni della prima autostrada al mondo. Perché il 21 settembre del 1924 il re, che allora era Vittorio Emanuele III, inaugurava la Milano Varese. Pensate che solo un anno dopo la Lainate Como e la Gallarate Sesto Calende. Domani, domenica. Andate in autostrada. 22. 150 tra auto e moto d'epoca percorreranno l'autostrada e non so se tu sarai lì. Io ci sarò. Mi trovate all'autogrigo. Sto dentro e potete offrirmi un caffè corretto. Al 42esimo caffè corretto muoio. Ando in orbita. Domani, tra l'altro, alle 14.43, attenzione, perché è l'equinozio d'autunno, per cui stanotte è l'ultima notte d'estate. Cosa fai nell'ultima notte d'estate? Delle cose fanno... Quello non posso dirlo, però ti posso dire cosa faccio con le... Domani all'equinozio. All'equinozio sarò all'autogrill e sarà il momento, dopo il 42esimo caffè corretto, di affrontare un fattoria. O un camogli. E quindi a questo punto... Chi cambia canale... È un fattoria. Chi rimane sul canale è un camogli. Camogli. Luigi Consolandi. Stefania Margheriti. Alessandro Puffini. Prodotto da Piero Maranghi. Una produzione classica HD. Sky Canale 136. In collaborazione con Intesa San Paolo.